Stiamo salvando Sì Si 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 vede? Si vede Si vede So so Come E' bello, eh? E' di grigio? No, no, è a colori? Però non è grigio. Si, si, no, no, è a colori. No, no, è a colori, è a colori. Questo è il vantaggio di arrivare a 60 fuori grande al secondo. E quindi riesce ad avere una bella definizione. Quindi non c'è un morso. Però quello che vediamo è una nuova, eh? Questo movimento è evidentissimo. No, questa è la Philips 2. Ah, tu. Sì, sì, c'è il cialcio, c'è il cialcio. Un po' normale. Un po' normale. Un po' di piedi bene. Un po' di piedi bene. Un po' com'è. Come tempi di posa, quanto di aprico? credo che sia il massimo con i driver modificati arriva a un secondo con i driver modificati normalmente è un sessantese beh perché nasce si è chiaro è perché compose più lunghe e più rumore di fondo un po' come venire